Welcome, io sono Pierre e oggi preparo una torta al cioccolato facilissima, rapida, senza bilancia addirittura ma vediamo subito gli ingredienti allora come prima cosa serviranno 4 uova io metterò 3 cucchiai di zucchero di canna perché la ricetta prevede 12 cucchiai di zucchero normale io metto questo di canna e trovandolo un pochino più dolce ne metto solo 3 cucchiai, questo zucchero se l'hai visto è quello che compro e ricompro da Inns poi 4 cucchiai di olio di semi e girasole 12 cucchiai di latte 12 cucchiai di farina che io dividerò io ne metterò 8 di farina integrale e 4 di farina 00 mi piace farla un po' integrale poi 4 cucchiai di cacao amaro in polvere che è un mio compro e ricompro da Lidl una bustina di lievito per dolci e metterò anche un goccino di rum però il rum diciamo che è di Mona mia variante nel senso che la ricetta prevede o della vaniglia o della vanillina o altrimenti anche della scorza di arancia io volendo del limone ma vado giù di rum preferisco tanto sono grande farò solo proprio la torta basica perché mi piace l'ho già provata e riprovata e mi piace mangiata così altrimenti diventando tipo pan di spagna la ricetta prevede anche una glassa che la ricopra fatta con 200 ml di panna e 200 g di cioccolato fondente basta farli sciagliare nel microonde insieme ed è già pronta è una ganache che anche a me capita di utilizzare spesso come prima cosa bisogna accendere il forno in modo che si preriscaldi il forno è ovviamente un classico 180 gradi e poi serve una teglia io prendo queste qua a cerniera perché sono un po' più pratiche anche questa qua l'avevo comprata secoli fa di fatto si vede poverina che è un po' tutta rovinata l'avevo presa da Lidl e mi trovo davvero bene questa qua ha una diametro 26 cm ci ho scritto dentro, meno male e basta rivestirla di carta forno altrimenti se preferisci, ad esempio mia zia lo fa mette un po' di burro e di farina e via anche perché essendo a cerniera dovrebbe essere più facile ma io metto la carta forno non sarà poi bella esteticamente perché mi rimane un po' raggrenzita però è più pratica perché tiro fuori e mangio iniziamo come prima cosa bisogna rompere le 4 uova e poi aggiungere i 3 cucchiai di zucchero di calma io te ne consiglio 3 anche se ti piace tanto dolce prova con 3 perché di più a me nauseava il mio non è troppo grumoso ok, un pochino sì, però è bello morbido in automatico dovrebbe sciogliersi bene se è tanto secco il tuo ti consiglio magari di tritarlo prima ok, non diventerà esattamente come il classico non so se si vede che è comunque un pochino spumoso però il colore ricorda già un po' di più quello del tipo caffè latte mettiamola così non viene proprio una bella schiuma bianca come con lo zucchero classico però la torta alla fine è buona comunque e il risultato è uguale esteticamente adesso mettiamo i 4 cucchiai di olio di semi di girasole e loro consiglio già di mischiare ma io salto nel senso che vado già di latte e di latte 12 cucchiai qua do una rapida mischiata tanto da amalgamare ma sono liquidi volendo si può fare anche completamente con la frusta a mano che io oggi non ne voglio perché altrimenti si riesce benissimo è una torta molto morbida quindi anche con la classica frusta bene ora tocca alla farina ne metto 8 di farina integrale e 4 di farina tipo 00 diciamo che con le farine ti puoi anche un po' sbizzarrire a me è già successo di mettere 8 di integrale e 4 di farina d'avena oppure mi tritavo direttamente delle nocciole, delle mandorle le rendevo proprio farina e la mettevo al posto di quella bianca magari lievita leggermente meno però è ancora più buona inizio a mischiare prima le farine ora mettiamo 4 cucchiai di cacao se ne vuoi mettere anche 5 male non fa ma io ne metterò 4 seguirò la ricetta almeno in questa cercando già un po' di spolverizzarlo ovviamente come in tutte le ricette ti consiglio di utilizzare quella roba che non mi ricordo come si chiama quella fare comunque che spolverizza ma io avendo due pacchettine di farina sono entrambe belle polverose il cacao è un po' più granuloso quindi bisogna mischiare bene io di solito arrivata a questo punto prima di mettere il lievito e il rum metto la carta forno nella teglia perché di solito si fa prima ma io mi dimentico ci sono i vari metodi di piegatura del foglio per che aderisca bene non formi tutte le grinze ma il mio metodo è solo questo di prendere bene più o meno la misura trappare inumidire leggermente eliminare l'eccesso d'acqua qui diventa tipo un lenzuolo che ovviamente sgocciola io a sto punto per farla asciugare un pochino la metto già in forno la teglia aggiungo quello che devo aggiungere nella torta e poi la ritiro fuori e ci metto il composto dentro adesso aggiungo un cucchiaino da caffè mettiamo così di rum non ne metto tantissimo non ho preso il cucchiaino però è una cosa in più poi da lavare e poi una bustina di lievito che sono da 15 grammi l'odore è già buono adesso cerco di farti vedere intanto qua abbiamo una partecipazione di Kate non fa tante bollicine di solito ne fa un po' di più però praticamente non appena inizia a fare delle bollicine io spengo lo sbattitore è in forno 180 gradi 30 minuti poi dipende sempre dal tipo di forno il mio è magico lo controllo perché può metterci 20 minuti come 40 quindi vediamo torta sfornata qua diciamo che era un po' più carina prima però cercando di girarla volevo tenere la parte sotto sopra ma poi non era troppo bella quindi ho detto vabbè teniamo sta parte qua e quindi c'è un mio mignolo però devo dire che vabbè i lati come vedi te l'ho detto che con la carta forno si sono un po' irregolari però devo dire che sopra di solito mi rimane molto peggio invece è rimasta piuttosto liscia quindi c'è il mio dito però in teoria se ci davo sopra una glassa veniva bella bella poi mi sono dimenticato di dirti che volendo prima di infornarla ci puoi cospargere dentro tipo delle granelle di nocciole o qualcosa di simile comunque della frutta secca o altrimenti puoi mettere prima di cuocere tipo della frutta non so magari dei mertilli se ti piacciono dei lamponi o se no una volta cotta puoi mettere o dentro tagliando la metà o sopra della marmellata io di solito la lascio ho già provato un po' tutte le varianti sicuramente me le vedranno infinita di volte perché è una ricetta salva dolce che faccio sempre da autunno a primavera questa qua è la versione basica che faccio e infatti come vedi fuma ancora l'interno però è così e basta aspettare che raffreddi e poi è buonissima da mangiare non rimane troppo asciutta o comunque sia la puoi sempre prendere con del caffè con una tisana con del latte se vuoi puoi evitare puoi omettere il cacao metti la lasci bianca ti viene una torta basica bianca puoi decidere se metterci sempre della frutta della frutta secca della marmellata o una crema spalmabile alla nocciola quello che preferisci se ti è piaciuto questo video lasciami un like se hai te una variante se l'hai già provata in qualche altro modo o se vuoi consigliarmi una tua variante scrivimelo qua sotto nei commenti anche se hai un dolce salva dolce scrivimelo qua sotto che io amo le cose facili da fare se non sei ancora iscritta iscriviti al canale attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni ci vediamo domani con un nuovo video bye ciao 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 ciao